Musica Benvenuti ad una nuova edizione di questo non è un reggito a essere veneziano. Oggi parleremo di sport e di un ricordo del Natale. Sport, Bergonzi diventa arbitro internazionale. L'arbitro 36enne Mauro Bergonzi, che a Savona fa l'assicuratore per conto dell'Auripol, è stato inserito dalla FIFA nella lista degli arbitri internazionali di calcio. Sono 9 gli arbitri e 10 gli assistenti italiani che la FIFA ha inserito nei ruoli internazionali pubblicando l'elenco ufficiale per il 2009. La Federazione Internazionale ha provveduto anche a nominare i direttori di gara e gli assistenti di livello internazionale per il calcio a 5, il bici social e il calcio femminile. E ora parliamo di ricordo del Natale, i presepi, una passione antica. Nel Palazzo dell'Anziania, in piazza del Brandale a Savona, si è svolta la 34esima mostra del presepe nell'arte ceramica. In totale erano in mostra le opere di una quarantina di artisti, oltre ai presepi realizzati dalle signore non videnti dell'associazione Dalla Mente alla Mano. Ma in tutto il Savonese, nelle recenti festività natrizia, sono stati allestiti numerosi presepi, molti dei quali sono ormai una tradizione. Ricordiamo tra questi il presepio meccanizzato di Arsermo Fontana, che ha un'istensione di 7 metri per 3, collocato in un locale dell'Arci Confraternita della Santissima Trinità, in via Collodi 3, attivo alla chiesa di Santa Rita a Savona. E quello collocato nella chiesa di San Matteo a Lucetto, che misura ben 130 metri quadri, in cui è stato riprodotto il paesaggio di Arbissona superiore all'inizio del secolo. In esso sono di particolare pregio la riproduzione di Villa Gavotti, della chiesa di San Nicolò e della chiesetta di San Pietro. Concludiamo così il nostro TG di oggi e vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie.